Francesco Palantrani, la guerra non è soltanto fatta di bombe in questo momento, c'è anche una guerra economica, la chiusura dei rapporti di natura commerciale con la Russia in questo momento rischia di mettere a terra tante aziende del comparto pellettiere e manufatturiero in questa zona. Noi come consorzio nel nostro gruppo ci sono circa, in totale siamo 58 aziende, ma oltre la metà ha relazioni commerciali con questi paesi. Soprattutto sul mercato russo, da oltre 25 anni che ci sono affari che si vanno a sviluppare su questi mercati. Certamente ora con l'esplosione della guerra ci siamo trovati in certe aziende ad azzerare proprio la parte produttiva, quindi da oggi al domani ci siamo trovati proprio a tenere le aziende chiuse, perché ci sono aziende da tenere presente che fanno anche fatturate intorno al 90% sul mercato russo, ma non di meno anche sul mercato ucraino. Come se ne esce in questo momento? Fare una bella riflessione senza lasciarsi prendere dal panico. Credo che l'unico sistema, parlando da imprenditore, è quello di rimboccarsi le maniche e per l'ennesima volta ripartire, ma ripartire alla ricerca di altri mercati, perché credo che questo conflitto avrà delle ripercussioni per la nostra economia per diversi mesi. Mi auguro dal punto di vista umano che cessi anche domani mattina, però gli effetti li vedremo in un medio-lungo termine.